Già, viaggiando. Che roba è? Il Vangelo? No, è un romanzo. Cos'è un romanzo? Un libro. Ci sono altri libri oltre al Vangelo? Certo. Vedi, questa è una favola, una storia di mare. Bello? Sì. Io non ho fetta. Saluti voi. Saluti. Deve leggere un libro, una storia di mare. Con i piedi che te lo ho sentito. Leggo. Dopo. Era alto uno e ottanta. Meno un paio di centimetri o tre. Molto robusto di corporatura. Meticorosamente curato nella persona vestiva di candido dalla testa e i piedi. Chi sa? L'ordine l'estremo oriente. Chi lo sa? La voce... Leggio! Devo. La voce era profonda. Sonora. E vi veniva incontro. Con le spalle un po' curve. La testa in avanti. Con le spalle un po' curve. La testa in avanti. Qu aligned sad. E vi veniva il suo. La testa in avanti. . Grazie.